Prima che inizi il video iscriviti e attiva le notifiche su tutte se vuoi restare aggiornato all'uscita dei prossimi video Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi come avrete letto dal titolo io e i miei collaboratori abbiamo deciso di fare una lotteria su GTA Online In che senso? Per chi non lo sa ancora Vendo account moddati di GTA Online per PC in realtà faccio più aggiunte di soldi, rango, qualsiasi cosa sugli account di GTA Online per PC Per chi ovviamente lo chiede è a pagamento Ti serve un'aggiunta di soldi su GTA Online per PC? Passa dal gruppo Telegram in descrizione Aggiunte di soldi, rango e qualsiasi altra cosa sul vostro account di GTA Online Abbiamo deciso di fare questa lotteria in cui con il costo di 2€ a biglietto avrete la possibilità di vincere Un account moddato con oltre 3 miliardi, rango a scelta e tutto sbloccato come primo premio Mentre come secondo premio un account con circa 1 miliardo e rango 500 E terzo premio un altro account sempre più o meno con le stesse cose Quindi se volete partecipare passate dal link in descrizione del gruppo Telegram Del nostro gruppo Telegram dove potrete trovare maggiori informazioni a riguardo Oppure anche se vi interessa semplicemente un'aggiunta di soldi, rango o qualsiasi altra cosa Sul vostro account di GTA Online per PC Passate semplicemente dal gruppo e contattateci insomma Trovate tutte le istruzioni in descrizione Quindi vi aspetto numerosi per questa lotteria per chiunque voglia partecipare E niente, buona fortuna a tutti e vinca il vincitore Sì, esatto, per quello sicuro